I tempi di attesa per fare i tamponi molise sono ancora lunghi, spesso si attendono giorni e giorni prima di essere chiamati dall'ASREM per effettuare il test. Proprio per aumentare la capacità di fare tamponi e quindi alleggerire il carico sull'ospedale Cardarelli, da domani anche a Campobasso, come già accaduto in altre città italiane, sarà attivo un drive-in, un'area dove si potranno fare i tamponi stando in auto. E questo è il punto d'ingresso del drive-in che sarà operativo da domani. Siamo davanti alla curva sud dello stadio di Selvapiana, qui saranno incolonnate le auto e qui vedete il punto di ingresso di quello che si chiama tecnicamente drive-throw, gestito dai carabinieri con l'operazione IGEA. Tutte le mattine funzionerà dal lunedì al sabato, per tutta la mattinata, dal lunedì al venerdì, per mezza mattinata fino alle 11 e mezza il sabato. Qui ci sarà la fila delle auto dove vedete adesso i militari dell'arma dei carabinieri lì in fondo dopo il primo punto, il punto dell'accettazione, si faranno i tamponi. Il drive-in di Selvapiana inizialmente effettuerà 50 tamponi al giorno che poi saliranno a 100. Ci si potrà recare solo chi sarà contattato dall'azienda sanitaria e avrà la prenotazione. Una volta sul posto sarà vietato scendere dall'auto per tutto il percorso fino al tampone. Stamattina gli ultimi sopralluoghi sul posto anche il comandante provinciale dell'arma, il colonnello Emanuele Gaeta, che insieme ad altri militari, medici e infermieri arrivati da Lombardia e Piemonte e insieme ai rappresentanti di Asrem e protezione civile, ha fatto il punto della situazione e ha verificato l'organizzazione del drive-in a poche ore dalla sua attivazione.